Macelleria Rinaldi, chi parla? Pronto? Pronto? Eh, sono la governante del conte di Simone, Largo Arenola 2. Vorremmo ordinare un etto di carne, un etto di carne, un etto di carne! Un chilo, che ammetto? Un chilo? Un chilo di carne di vitella, decente. Decente? Modestamente ho della carne che sembra viva per quanto è fresca. Vuole ripetere il suo indirizzo che mandò mio figlio? Conte di Simone, Largo Arenola 2. Grazie, buongiorno. Ah! Mi scusi, ah, dimenticavo. Dì a suo figlio il resto di 100.000 lire. Perché non abbiamo moneta spicciola in casa? Sia tranquilla, sarà fatta. Grazie, buongiorno. Se l'è bevuta? Ma vaffanculo, mamma!